Come ne è buono? Sì, sì. Buonasera, prego. A che faccio questo lavoro, diciamo, quasi 50 anni. Un ottimo lavoro. A noi diciamo che ci conoscono Messina, provincia. Insomma, ci conoscono un po' tutti. Siamo famosissime per le castagne. E quest'anno com'è andata con le castagne? È stato facile trovarle? No, io lavoro questo tipo di castagne. Sì, quest'anno effettivamente, visto che non ha piovuto, vorrei che c'è stato non so che cosa di castagne. Però io lavoro sempre questo tipo di castagne qua, che sono famosissime. E la gente ci appensa anche il nostro lavoro. Ci può dire qualcosa sulla cottura? Come è meglio cuocerle? Diciamo, se si fanno a carbone come la vogliamo noi, è meglio ancora. Noi mettiamo le castagne qua, questa padella, diciamo. Poi mettiamo un po' di sale. Il sale va giù, dove se non è il fuoco. Praticamente, questo anche è il risultato. Questi ancora non sono pronti, fanno questo effetto di bianco. Questo bianco è il sale. E c'è un trucco, un segreto? No, noi lavoriamo alla luce del giorno. Un segreto sono le castagne, che ovviamente se uno lavora in castagne buone, magari la gente li apprezza e lavoriamo sempre. Noi siamo in tutte le piazze, dove ci sono sangre, feste religiose, insomma, siamo in tutti i posti. E la gente apprezza il prodotto? Sì, 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 noi lavoriamo questo lino di nastagne e la gente apprezza il nostro prodotto.